è la prima volta che vola? si Aldo da Pino? dimmi adesso mi preparo quando sono a tiro ti chiamo Aldo ricevuto guarda che Antonio ha risalito l'altra volta ah bene questo guarda che guarda che guarda che guarda che guarda che si vede anche l'altro si non so se è ah quello è Mirko